Siamo andati io e Erika Alfridi per vedere la premiazione di Anna per sentire l'inno ed eravamo sugli spalti e ci aspetta e dicevamo adesso Anna piange, adesso Anna piange sul podio piange, invece Anna è imperterrita che si è presa la sua medaglia, si è ascoltata l'inno e io e Erika abbracciate che piangevamo come delle bambine. Grazie a tutti